Jeffim Georgievich Perfilov, 61 anni, nato nella regione di Saratov, disoccupato, fucilato il 5 gennaio del 1938 a Bisk. Alexander Erofevich Shuravin, 53 anni, nato nel villaggio di Mezvez, regione di Leningrado, contadino, fucilato il 20 settembre del 1937 a Leningrado. Joseph Stepanovich Voronoi, 38 anni, nato nel villaggio di Kandibovka, regione di Poltava, meccanico presso il deposito della stazione di Skuratovo, della ferrovia di Zerrischi, fucilato il 14 marzo del 1938 a Butovo, Mosca.